Ciao a tutti amici del lavoratore artistico, oggi voglio fare la spesa con voi. Non voglio parlare però di materiali da belle arti, ma di materiali che si acquistano al supermercato e si possono riciclare per fare arte, quindi materiali che io acquisto per altre cose. Allora, innanzitutto questi. Allora, questi sono normali piatti, questo di plastica, questo di carta riciclata, che io utilizzo, o meglio, faccio utilizzare dai bambini per usare le tempere. In realtà questi non sono propriamente riciclati, nel senso che io li acquisto nuovi e poi li do ai bambini per dipingere. Mentre ci sono altre cose che vengono acquistate per altri usi, per esempio vasetti. Quindi, allora, i vasetti dello yogurt, questi sono quelli classici dello yogurt, 125 grammi, che noi consumiamo abbondantemente a casa perché piace a tutti e anche ai miei figli, quindi questi qua sono migliori dal punto di vista della resistenza e anche della capacità di stare dritti rispetto ai bicchieri classici che io potrei acquistare quelli, diciamo, di plastica per bere, per le festicciole dei bimbi. Quelli sono molto leggeri, sono un po' più alti, quindi rischiano più facilmente di ribaltarsi. Quindi con i bambini meglio questi. Poi, sempre per diluire il colore, altri tipi di contenitori, questo per esempio è un contenitore della granita. Molto carino anche, devo dire, secondo me è fantastico anche per fare delle formine. Allora, questi invece sono contenitori dei budini, sono più utili per diluire il colore, mescolare magari la tempera o l'acrilico piuttosto che per tenere l'acqua perché sono un po' piccoli. Uno fantastico è questo. Questo qua è lo yogurt dei bambini, quello che ha le cereali o le caramelle dentro. E al tappino, questo tappino qua, pur non essendo proprio a tenuta stagna, perché insomma è abbastanza... Ha un doppio uso, e cioè se io magari faccio del colore e poi, boh, mi interrompono e devo un attimino andare da un'altra parte, un'ora o due, e poi voglio ritrovare il mio colore, posso tapparlo. Non dura tantissimo, perché non è a tenuta stagna assolutamente. Se voglio tenere il colore un po' più a lungo, dovrò metterci del cielo, chiuderlo un po' meglio. Oppure il secondo uso è quello di diluire. In questo caso è più utile magari per l'acquarello, questo qua abbasso così, perché in genere si usa meno colore con l'acquarello. Poi, un altro che tengo, e qui ho gli avanzi dei colori a cera, questo è bellissimo, il mio colore a cera fosforescente arcobaleno, che purtroppo comprato in Inghilterra era grande, adesso è finito, ai bambini piaceva tantissimo, ai bambini del laboratorio d'arte, e non lo trovo più, quindi dovrò ritornare al Tate Museum di Londra per acquistare esattamente questo. Il barattolo invece, chi lo riconosce, 3, 2, 1, è il barattolino della stampante, cioè dell'inchiostro della stampante. Questi qua, appunto, io li uso per metterci gli avanzi dei pastelli a cera. Sicuramente vanno bene anche per diluire l'acquarello. Ma, ta-da-da-da, il pezzo forte è questo. Siccome io sono un'acquarellista, amo tantissimo l'acquarello, il mio preferito è in assoluto questo qua. Questo qua che è un contenitore del formaggio, primo sale, eccolo qui, che ha questi scomparti qua. Allora, questi scomparti qui sono perfetti per diluire l'acquarello. Fantastici, perché sono piccoli, uno può mettere un pochino d'acqua, un pochino di colore, e tra l'altro la plastica è abbastanza buona, quindi sono assolutamente non usegetta, ma utilizzabili più e più volte, anche perché l'acquarello non rovina, quindi non è come l'acrilico che si attacca e devi buttare via tutto, puoi utilizzarlo più volte. Quindi questo qui è fantastico, lo trovate, ne trovate praticamente identici in commercio, nel negozio di belle arti che costano 3, 4, 5 euro e non hanno nemmeno il formaggio. Quindi questo qua è sicuramente l'acquisto migliore. Un'altra cosa, l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa. Questa è una bacchetta riciclata dal ristorante cinese, giapponese, infatti è anche molto carina, anche decorata. Io le uso queste bacchette qua per mescolare il colore, perché a volte il colore, soprattutto la tempera o l'acrilico, si indurisce, e quindi, oppure anche per la colla vinilica. Per la colla vinilica può servire sia per mescolare che per stendere, perché hanno una punta arrotondata abbastanza utile anche per lavoretti vari. Altre cose che si possono utilizzare, prese dal supermercato, ma in questo caso non riciclate, sono le spugne. Le spugne, adesso non ne ho qui a portata di mano, comunque le spugne sono utilissime per fare stencil, per tamponare, per asciugare eventuali eccessi di colore e così via. Stessa cosa lo scottex, anche lì non si tratta di riciclo, si tratta di acquisto vero e proprio al supermercato. Bene, spero che abbiate trovato questa chiacchierata divertente. Se trovate altre cose al supermercato geniali per dipingere e da inserire nella mia piccola collezione qui al laboratorio artistico, per il laboratorio dei bambini, ma anche per me io utilizzo queste cose qua per dipingere anche con i miei colori professionali. Se ne avete altri vostri, ditemelo, ditemelo nei commenti, scambiamoci le rispettive conoscenze. Come sempre vi ricordo che trovate altri spunti, altri tutorial, altre chiacchierate d'arte sul canale YouTube Il Laboratorio Artistico, quindi se vi interessa iscrivetevi così non parlate di niente. Potete seguire la pagina Facebook che si chiama sempre Il Laboratorio Artistico, invece il sito web nuovo nuovo si chiama scuolaearte.it e seguite cosa accade perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno delle grandi novità per voi. Ciao a tutti, buon'arte a tutti voi! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!